Una bambina con la maglia rossa e il tricolore cucito sul petto dell'Ital Service di Calcio a 5 assieme ad un bambino in divisa gialla del Loreto Basket, ora brandizzata Ital Service. Traduzione in immagini di un futsal che a Pesaro stringe la mano alla pallacanestro in maniera inedita, ovvero l'unione ufficializzata una settimana fa che porta l'impegno di Lorenzo Pizza, patron dell'Ital Service, a sostegno del rilancio della storica società di basket cittadina. Impegno che da oggi si traduce anche in una campagna abbonamenti congiunta, quella che è stata presentata nella sede della società cestistica e che dà il via a mercoledì 24 agosto ad una campagna di fedelizzazione ai due sport con l'obiettivo ambizioso di creare dei doppi tifosi. Chi vuole sottoscrivere l'abbonamento a Ital Service noi siamo felicissimi se vorrà anche sottoscrivere l'abbonamento per il Loreto, per questo diamo la possibilità, apriamo la biglietteria mercoledì e venerdì, mercoledì al Palafiera e venerdì qui nella sede del Loreto per dare questa possibilità di fare questo doppio abbonamento. Chiaramente il sogno sarebbe di avere tutti gli abbonamenti dell'Ital Service Calza 5 anche con il Loreto Basket, questo è un sogno speriamo, io e i miei amici già lo sto chiedendo quindi poi vedremo se ci riusciremo. 50 euro il prezzo dell'abbonamento per l'Ital Service, cioè una cifra dimezzata rispetto ai 100 euro della tessera di un anno fa. Abbonamento valido per tutti i tifosi sopra i 18 anni. I minorenni entreranno al Palafiera gratuitamente, anche quelli fra i 14 e 18 anni che fino a un anno fa pagavano il ridotto. L'Ital Service si toglie dunque un'entrata al botteghino per costruirne un'altra, proponendo a 50 euro un abbonamento al Loreto Basket finora a ingresso libero. Questa è l'idea mia, nostra, mia perché diventando anche il mio sponsor del Loreto abbiamo voluto favorire il Loreto in quanto non ha mai fatto gli abbonamenti e quindi abbiamo così tolto una quota, una fetta degli abbonamenti, di quello che era l'incasso degli abbonamenti dell'Ital Service e girare al Loreto. Chiaramente l'anno scorso l'abbonamento del l'Ital Service valeva 100 euro, abbiamo voluto così spalmarlo, 50 euro per l'Ital Service e 50 euro se le persone vorranno fare l'abbonamento al Loreto. Quindi è giusto come hai detto tu, togliere una fetta all'Ital Service e darla al Loreto. Messe le basi per un progetto sportivo ambizioso, il Loreto ora punta ad un numero di tifosi in crescita. Cerchiamo di coinvolgere i giovani che ai suoi 18 anni comunque non pagheranno niente, cerchiamo di coinvolgere con un minimo corrispettivo qualcuno per riempire un pochettino le palestre e il palazzetto e come dicevo io prima cercheremo di allestire una squadra per ripagare della fiducia che eventualmente viene data. Il Loreto basket giocherà a Baia Flaminia ma nella sognante ipotesi di superamento dei 200 abbonati traslocherebbe alla Palafiera. Alla Baia Flaminia la struttura permette una capienza dicevamo di 200 persone. Se si dovesse passare quell'obiettivo già con gli abbonamenti è chiaro che dobbiamo trovare un'alternativa e sarebbe una cosa insomma che farebbe estremamente piacere. Per conciliare ogni esigenza l'Ital Service ha deciso di spostare le sue partite dall'abituale venerdì sera alla domenica pomeriggio. Abbiamo assecondato le richieste di tanti genitori che ci hanno proprio chiesto, facevano fatica perché giocando al venerdì sera le partite finiscono verso le 21.30, 21.45 e tanti bambini e tanti ragazzi ancora hanno scuola sabato mattina e quindi qualche genitore ci ha chiesto un attimino così di poter verificare il cambio di orario. Siccome abbiamo visto che la domenica pomeriggio, quelle poche volte in cui abbiamo giocato ha sempre funzionato perché abbiamo portato tanta gente, mi ricordo quella con il Sapone abbiamo portato 1.900 spettatori con Latini, una partita in influente, addirittura 800-850 spettatori proviamo questa nuova avventura, proviamo questo nuovo orario, questo nuovo giorno. Io sono molto fiducioso, speriamo di non accavallarci con gli orari della VL, quello è fondamentale spero ardentemente di no, che le partite siano non nello stesso giorno, la stessa domenica ma siano un pochino falsate e per quanto riguarda invece il Loreto la partita, il giorno rimane sabato sempre alle 18, quello non si tocca.